sono le 16 e 4 del 3 aprile 2024 sto scendendo dalla disastrata strada della lampora distrutta dal maltempo del 15 ottobre 2015 guardate qui cosa rimane della strada praticamente qui era bella che larga e il combine della strada ecco quel che rimane soli il limite era quella palizzata molto ampia ripristinare questa strada ci vogliono molti molti soldi guardate un po sacca pattec tutto distrutto quindi questo sicuramente e rimane sempre in questo stato roccia sassi soprattutto enormi massi scendiamo qui ecco la palizzata guarda dove stava la strada e quindi la strada non esiste più e hanno fatto il transito qui dove scendo adesso anche io continuo a scendere piano piano ma adesso bisogna girarli piano perché l'occhio vuole la sua parte vedete se scendo piano piano qui ecco gli attriti i pezzi di cemento della strada vedete guardate lì peggio del terremoto guardate! 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 guardate!